Ciao a tutti, mi chiamo Alberto e sono laureato in Ingegneria per la sicurezza del lavoro e dell'ambiente. A partire dalle scuole superiori mi sono interessato alle tematiche della sicurezza, pensando che potesse rappresentare un ambito innovativo e ricco di opportunità lavorative. Tutto ciò mi è stato dimostrato sin da subito, poiché sono riuscito a trovare lavoro ancora prima di ultimare la laurea, venendo assunto dall'azienda in cui ho frequentato il tiroccino curriculare. In seguito ho deciso di iscrivermi alla laurea magistrale, di cui sono ancora uno studente. Considero il mio percorso in isla molto improntato sulle tematiche lavorative, per cui utile anche per coloro che sono indecisi sul proseguire un percorso di laurea magistrale.